Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Demos su la fiducia negli italiani in quali istituzioni. Allora, troviamo al primo posto le forze dell'ordine, 70%, poi il Papa, 68%, il Presidente della Repubblica, 68%, la Scuola, 56%, il Comune, 48%, l'Unione Europea, 45%, la Nato, 44%, la Regione, 42%, la Chiesa, 41%, la Magistratura, 39%, lo Stato, 36%, le associazioni degli imprenditori, 35%, le ONG, 33%, i sindacati, CGL e Cisleguil, 27%, le banche, 25%, il Parlamento, 23%, i partiti, 14%. Quindi gli italiani hanno fiducia, per esempio, nelle ONG, il 33%, nei partiti, il 14%, il Parlamento, il 23%. Incredibile. Agli ultimi posti, Parlamento e partiti. Arrivederci a tutti e grazie.